10 5 4 3 2 1 andiamo Marco 50 destra 4 chiude chiude 100 al palo tornante destro 50 tornante sinistro 100 destri sinistra 4 chiude per Arraia sinistra 3 per tornante destro per destra 4 in destra 300 sinistra 3 per destra 4 chiude lunga 50 alle piante attenzione sinistra 2 100 destra 3 taglia destra 3 più taglia apre 4 100 al palo sinistra 4 vai 100 destra 4 alle piante sinistra 3 più lunga apre 4 sul dorso 100 destra 3 più lunga taglia sporca in sinistra 4 in destra 4 chiude taglia sul dorso occhio sporco in sinistra 4 chiude corda 100 destra 3 più in sinistra 3 più 50 sinistra 4 chiude chiude 100 sinistra destra 4 sul dorso in destra 3 più lunga per sinistra 4 chiude 4 meno intornante destro 30 destra 4 chiude per sinistra 2 spide con il punto di l'occhio 2 sinistra 4 chiude arrivo sinistra 4 chiude porta vai 30 destra 3 più per sinistra 4 sul dorso 30 destra 3 lunga su ponte per sinistra 4 chiude 3 più sinistra 4 chiude tra più per destra 3 lunga su ponte 30 sinistra 4 chiude 100 sinistra 3 più lunga per destra 4 100 destra 4 100 destra 4 chiude 50 a rail destra 3 per sinistra 4 chiude 50 sinistra 4 chiude per al cartello sinistra 3 più lunga 100 destra 4 chiude chiude lunga su dosso 30 sinistra 3 più lunga 50 destra 3 lunga per sinistra 3 più per destra 3 lunga sinistra 3 più destra 3 più lunga 50 sinistra 4 chiude chiude andiamo 50 sinistra 4 chiude 100 destra 4 chiude per sinistra 4 lunga sinistra 4 chiude sul dosso vai 100 a cartello sinistra 4 chiude 100 destra 5 100 sinistra 4 chiude sul dosso quasi salta 100 sinistra 4 chiude lunga corta vai 50 destra 4 100 attenzione sinistra 3 per tornante destro è quasi un'inversione ricordatelo che scendiamo giù qua e poi c'è un 200 tornante sinistro di nuovo 200 siamo alla fine tornante sinistro ok bravo Marco bravo Marchino bravo bravo mi è piaciuta